Dal 30 maggio al 1 giugno Milano diventa la capitale dell'innovazione. Dai giardini di Porta Venezia trasmetteremo il BNL Live, il primo dialogue show di BNL in diretta streaming dal Wired Next Fest, il festival di Wired che racconta il futuro, i nuovi prodotti e le nuove tecnologie. Dialogheremo insieme su imprese, start-up, cinema, tennis, famiglie, innovazione e lavoro. Vuoi sapere chi saranno i protagonisti? Il più importante potresti essere proprio tu. Se vuoi fare i tuoi reportaggi in diretta dall'area dell'evento ed essere il primo a pubblicare sui tuoi social network o sul tuo blog da questa finestra unica sul futuro, proponiti come social reporter. Se vuoi contribuire con una tua idea alle discussioni e al dibattito oppure rivolgere una domanda agli ospiti del BNL Live, fai richiesta per essere contributo. Infine, sfrutta l'opportunità di collaborare a condurre lo show e moderare la discussione affiancando uno showman professionista. Inviaci una mail o un tuo video e iscriviti nella sezione Speaker. È un'esperienza da non perdere e un'occasione in più.